ciao a tutti ragazzi sono manuel ma potete chiamarmi semplicemente ala e buongiorno io sono albi siamo qui con una nuova puntata dei giocatori della domenica e direi che possiamo iniziare subito col nostro angolo della posta e vi ricordo che in questo angolo della posta noi andiamo a leggere le mail che ci inviate tramite l'indirizzo di posta igdd chiocciolagimba.net diciamo che lì ci potete scrivere un po quello che volete noi andremo a selezionare le domande più interessanti le proposte più interessanti anche le mail divertenti insomma mandateci dei messaggi noi saremo felici di utilizzarle all'interno di questa rubrica perfetto allora direi che possiamo iniziare con la prima domanda edoardo ci chiede come mai questa è una domanda cui abbiamo già risposta ma ogni tanto bisogna rinfrescare la memoria come mai avete adottato il nome jimba allora intanto diciamo che come molti sapranno quelli che magari ci seguono dall'inizio noi siamo nati come ovviamente un insieme di youtuber già esistenti ma ci siamo uniti a un a un servizio cioè comunque a una società che fornisce servizi di team speak che si chiama jimba e per questo abbiamo deciso insieme a loro di formare questo canale che sarebbe chiamato appunto jimba network dal nome della dei servizi team speak sì probabilmente chi sta su pc e magari frequenta team speak 3 questo programma magari ha già sentito parlare di jimba infatti io addirittura prima ancora di essere un commentatore utilizzavo il ts di server di ts di jimba quindi già lo conoscevo ancora tanto tanto tempo fa comunque direi di passare alla prossima domanda allora la prossima domanda filippo ci chiede in questa comunità molto competitiva è ostile tra virgolette c'è spazio per i giocatori della wii me lo chiedo spesso poiché in italia chi fa video non ha più di 200 500 iscritti mentre in america o in altri paesi certi sono famosissimi sì diciamo poi in questa comunità molto competitiva ostile sì diciamo che magari molti giocatori si prendono molto sul serio e magari la wii non è esattamente la console adatta all'essere competitivi al mettersi più alla prova magari ecco però oddio secondo me neanche troppo comunque diciamo che ovviamente gli iscritti sono meno qua che in america per il semplice fatto che in america c'è molta più gente che guarda che guarda i commenti così come qua in italia i più grandi commentatori hanno 20.000 30.000 più di 30.000 iscritti in america arrivano ad averne un milione se non di più ma spazio per i giocatori della wii non lo so io ora come ora ho visto che c'è qualche commentatore della wii però non non ho visto nessuno che ha mai spondato forse ora io non sono esperto però la cosa più semplice del mondo cioè lui dice che molti in america hanno tanti cioè sono famosissimi immagino che si riferisca ai giocatori della wii è anche normale però bisognerebbe vedere rispetto poi a quelli che non usano la wii quanto sono famosi magari sono famosissimi rispetto ai nostri standard ma rispetto a uno standard di uno youtuber famoso americano sono poco famosi diciamo che tutto dipende dal dal pubblico da quanta gente c'è ovviamente loro parlando in inglese il pubblico è gigantesco noi stessi guardiamo video di americani e non credo che loro guardino i nostri video quindi è abbastanza curioso sì comunque sai secondo me quello della wii è un piccolo buco che abbiamo qua nella community italiana e mi sorprende che nessuno abbia ancora provato magari ad approfittarne facendo dei video davvero belli io immagino dei video con la wii con ovviamente la telecamera che mostra ai giocatori come si muove mentre lo fa sarebbe magari divertente magari so che sulla wii ci sono quei giochi tipicamente magari della nintendo come mario kart che sarebbero un po' un'esclusiva per un commentatore del genere comunque vedremo magari con l'arrivo della wii u qualcosa cambierà esatto esatto vedremo un po' com'è comunque passiamo alla prossima domanda marco ci chiede ciao jimba vi volevo chiedere c'è un'età secondo voi per iniziare a fare commenti su youtube allora questa è una domanda un po' strana diciamo che non c'è un'età quello di sicuro cioè ognuno li può fare come e quando vuole tutto sta nel ruolo che si vuole avere all'interno del mondo di youtube cioè ognuno è libero di mettere su i propri video apertamente però ovviamente è chiaro che se si vuole avere un pubblico di un certo tipo bisogna anche aspettarsi un video di un certo tipo è più probabile che magari se avete dieci anni e state facendo un video di qualcosa difficilmente una persona di 20 30 anni lo guarderà con interesse magari si dipende ho visto c'è un ragazzino americano che fa video di minecraft che è fortissimo a fare costruzioni con la redson ma veramente qualcosa di mostruoso che lo senti parlare dalla voce sembra che abbia 7 8 anni ed è seguitissimo tutto dipende ovviamente dai contenuti diciamo che l'età di per sé non è un dettaglio fondamentale poi ovvio che spesso con l'età coincide anche un certo tipo magari di maturità in alcuni casi esperienza sì esperienza e tutto il resto e quindi tendenzialmente uno più grande ha più difficoltà a guardarlo comunque il pubblico specialmente anche quello italiano è ampissimo quindi ci sono anche tantissime persone per dire tra i 10 e 15 anni ho anche più piccoli che guardano video youtube perciò non crediate che essendo piccoli non abbiate possibilità su youtube anzi tutt'altro bene e direi che questa è la mia risposta eh beh certo vai con la prossima allora 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 questa non ho ben capito ma lo chiedo lo stesso Filippo chiede un altro Filippo tra l'altro c'è pieno di Filippi Aquaman beve la coca cola? ecco questa è in ogni puntata di GDD abbiamo sempre una domanda demenziale beh io credo di sì però quando no però quando beve la coca ne versa poca perché sennò cola ecco l'hai fatta a dirlo bravo ciao mio sono riuscito a mettere questa battuta squallida in un GDD ma tra l'altro in tutto questo non capisco ma Aquaman chi è? Aquaman è un eroe della DC se non sbaglio è uno di quelli che non si incura nessuno ho mai sentito nominare esatto però quella probabilmente non l'ho mai sentito nominare eh non ho fatto d'acqua il morfling vabbè comunque allora leggiamo la prossima domanda Angelo ci chiede perché non create questa è una bella domanda perché non create un forum ben fatto e strutturato in modo da migliorare l'interazione tra Gimba e gli utenti cosa nella quale purtroppo Gimba effettivamente lo metto anch'io sembra peccare? allora intanto inizio col dire che noi siamo dei fan sfegatati dei forum almeno questo io penso anche Albi e tutti gli altri ovviamente creare un forum non è una cosa così immediata noi ci aspettavamo un certo tipo di utenza però non eravamo ancora abbastanza pronti insomma noi vogliamo che nel momento in cui ci sarà un forum sia qualcosa di ben fatto ben avviato comunque che possa funzionare decentemente insomma con moderatori persone che stiano dietro al lato tecnico insomma non è una cosa così semplice da fare noi comunque ci stiamo lavorando lo stiamo facendo perché ovviamente ci fa piacere avere interazione con gli utenti penso l'abbiate notato nella scorsa puntata dei giocatori della domenica come è molto più interessante avere un certo tipo di interazione purtroppo facebook non è sarà perché magari noi siamo nati un po' prima non lo so abbiamo questa cosa che io facebook ho difficoltà a usarlo per comunicare diciamo che è molto bello come vetrina perché uno viene avvisato magari è un po' come twitter c'è un bel elenco di ultimi video mandati si può dare qualche commento qua e là però per comunicare è molto dispersivo perché i commenti tendono a sparire non puoi ritrovare i commenti vecchi facilmente non è un altro modo fune io credo che facebook sia un po' molto comodo io lo uso molto con la mia pagina ma è molto comodo magari per delle domande anche quando hai un pubblico magari un po' meno vasto con Gimbo Network è abbastanza difficile comunque delle domande per dare una risposta secca una risposta immediata così ma già se si vuole magari fare delle discussioni esporre dei pensieri un po' più articolati ecco secondo me facebook non è il mezzo giusto e per questo stiamo lavorando da un bel po' ad un forum non sappiamo ancora tra quanto sarà pronto ma spero il prima possibile esatto esatto quindi non disperate ci sarà sarà molto interessante cercheremo di sfruttarlo il più possibile sia per i nostri contest che per altre cose che faremo in futuro insomma grazie di averci suggerito questa cosa comunque ci stiamo lavorando sì come al solito diciamo che a noi piace quando dobbiamo fare una cosa preferiamo prenderci tutto il tempo che serve ma farla bene e farla come si deve ecco comunque voglio ricordarvi come sempre che riceviamo anche molte email questa volta non ne leggiamo nessuna ma molte email che dicono ma che ne dite se facessi un video così ma che ne dite se facessi un video cos'ha per il rookie contest per una serie su Giba ragazzi non chiedetecelo mostratecelo il rookie contest serve a questo non possiamo valutare le vostre idee che ci proponete cosa state ma soltanto i video i video concreti possiamo valutare ecco quindi non proponeteci delle idee proponeteci dei video esatto soprattutto perché ci arrivano veramente tanti messaggi di questo tipo quindi noi ci teniamo a ricordarvelo sempre che purtroppo anche per ragioni di equità rispetto agli altri non possiamo metterci lì a vedere i video che ci mandate diciamo che tendenzialmente le persone che andiamo a scegliere sono persone o che vincono il rookie contest o comunque che notiamo all'interno del rookie contest o persone che notiamo per altri motivi perché li vediamo in giro eccetera difficilmente andiamo a vedere i messaggi cioè i video che ci mandate tramite messaggio insomma mandate se avete un'idea se avete qualcosa mandatela lì anche perché ultimamente davvero stanno aumentando tantissimo le partecipazioni al rookie contest questo mese abbiamo dei video davvero davvero molto interessanti io sono rimasto molto contento di quest'ultimo rookie contest sì speriamo che vi piaceranno perché ne abbiamo avuti davvero tante tante belle partecipazioni infatti siamo stati molto provati nel scegliere i due vincitori sì non è stato facilissimo insomma diciamo che durante la prossima settimana avrete la possibilità di vederli come ha detto l'ego all'interno del video news e quindi vi lasciamo poi a voi il vostro giudizio ovviamente noi cerchiamo sempre di scegliere al meglio poi ovviamente sta anche un po' a voi vedere cosa vi piace o meno ok bene direi che puoi introdurre il primo ospite abbiamo concluso quest'angolo della posta dunque vado subito a leggere la descrizione del suo canale commentari guide e simpatia per i videogiocatori italiani d'oggi mi piacciono i videogiochi ma ciò non significa che sia il mio unico interesse in questo canale vi offro un intrattenimento spontaneo che vi possa divertire e striptease tutti i giorni soprattutto striptease direi soprattutto striptease ciao lego ciao a tutti sono lego conosciuto anche come la caccia di draghi no forse questo no spero di no e niente insomma cacciatore di draghi si famosissimo cacciatore di draghi ormai le terre di skyrim mi venerano e mi bramano e niente sono un commentatore realizzo commentari da diverso tempo e faccio parte anche di Jinba a quale in veste di amministratore penso insomma spero che insomma mi conosciate quindi non mi lungo troppo nelle presentazioni ecco ok allora introduciamo invece qua il secondo ospite della puntata una persona poco famosa ma chi segue Jinba probabilmente già l'ha sentito parlare prego Shinigami ciao a tutti ragazzi io sono Shinigami io nasco come giocatore di Dota e finora ho fatto un video per Jinba Network dove spiego un po' alla gente come iniziare a giocare e ho in progetto di partire anche con un con video sul mio canale e per il momento non so ancora cosa fare ricordiamo che a tutti che è scarso per chi non lo sapesse non è tanto bravo a giocare a Dota si bulla tutto il tempo fa tutorial ma non è per niente capace si diciamo che abbiamo abbiamo notato Shinigami come un grande giocatore di Dota infatti ora come ora lui ci insegna molto sta in T.S. con noi e proprio per questo lui ci ha proposto di fare dei video prima ancora di avere un canale ha fatto un video per noi su Jinba Network e appunto per questo fa parte della famiglia dunque direi che possiamo introdurre quindi l'argomento della puntata come penso avrete visto dal titolo l'argomento della puntata sono cioè è o sono gli action RTS oppure i MOBA a seconda di come si preferisce chiamarli quindi andiamo subito a chiedere al nostro buon Shinigami che fa finta di essere un esperto mi sta radunando troppo sinceramente guarda lo so sarei tutto rosso senti un po' raccontaci un po' che cos'è un action RTS dice che cosa definisce in generale la categoria insomma il genere di gioco allora innanzitutto cominciamo col dire che gli RTS sono giochi di strategia in tempo reale dove i giocatori comandano diverse unità e si combattono per distruggersi a vicenda la differenza maggiore con gli action RTS è che di solito si tende a comandare un'unità sola si gioca in più persone e sempre lo scopo è distruggere la base avversaria comandando un'unità potenziando il proprio personaggio con vari item e appunto cercando di avere la meglio sugli avversari diciamo che probabilmente qua la gente a casa ha già capito di che giochi stiamo parlando anche perché in sottofondo avremo un gameplay di Dota 2 e dopo ne avremo uno di League of Legends dopo la pubblicità ecco ma Shini raccontaci un attimino com'è che sono nati questi giochi perché hanno avuto una nascita particolare una nascita che di solito non succede con altri giochi sono nati da una mod dalla community esatto praticamente Dota parlo di Dota perché è il primo ad essere nato Dota nasce come una mappa di Warcraft 3 ovvero una mod diversi giocatori della community hanno pensato a come rendere Warcraft 3 un gioco ancora migliore e hanno creato appunto la prima mappa di Dota questi personaggi li posso tranquillamente nominare sono Ice Frog Winso e Euls queste tre persone si sono riunite e hanno messo insieme dieci eroi presi a caso dai personaggi di Warcraft e hanno creato una versione rudimentale diciamo del primo Dota infatti la prima mappa poteva contare su circa solo dieci eroi e questa mappa ha avuto un grandissimo successo tra i giocatori e hanno continuato a svilupparla svilupparla fino fino a ancora allontanare quello che è diventato adesso esatto fate conto che la prima versione risale ancora al 2004 adesso siamo arrivati al 2012 dove la Valve ha deciso di rifare il gioco e vedete che il successo sta avendo insomma ricordiamo se posso perché non lo sapesse abbiamo fatto un video che spiega per bene come sono questo genere di giochi diciamo che c'è questa struttura della mappa molto precisa ci sono due basi con in mezzo delle strade in cui passare e delle zone in cui combattere e tutto il resto e quindi diciamo che questo è un po' oltre al fatto di comandare un singolo personaggio è un po' il core del gioco insomma la struttura della mappa penso vada a definire per bene anche il genere di giochi in sé è una componente fondamentale fin dall'inizio era così che tu sappia la mappa è sempre stata così da tempo in memore magari è cambiata qualche disposizione di rampa qualche aggiustamento per migliorare al meglio il gameplay e farlo in modo che sia bilanciato il meglio possibile però sostanzialmente si è sempre stata con tre lane due giungle e il rush pit beh buono pensate voi che questo gioco pur avendo una singola mappa perché alla fine noi siamo abituati a giochi in cui magari più mappe ci sono e meglio è uno pensa si che bello questa mappa ha una struttura diversa questa ne è un'altra questo gioco qua si è concentrato su principalmente una modalità di gioco questo genere di giochi ovviamente principalmente una modalità di gioco e nonostante questo riesce ad avere una grandissima varietà perché appunto come ha detto Shini nel tempo hanno aggiunto tantissimi eroi tantissimi con ognuno con peculiarità diverse giusto? si basti pensare che come dicevo prima nella prima mappa c'erano solo 10 eroi e adesso si è arrivati a un totale parco eroi di 108 e c'erano 10 questo su data 2 questo su data 2 e su data 2 ancora di più no? questo ci sto parlando proprio di data 1 ah ok data 2 è rimasto un po' indietro perché appunto è ancora in beta quindi in fase di sviluppo però arriverà agli stessi numeri di dota mentre lol conta un parco eroi che va su quasi 100 107 mi sembra 106 107 però dopo che sono usciti giochi come League of Legends che è gratuito e ora la beta di dota 2 che si sa già che sarà anche su free to play diciamo che League of Legends e dota 2 hanno praticamente monopolizzato il nuovo mercato di questi generi di giochi no? se posso dire una cosa Heroes of New Earth io l'ho giocato nel periodo di transizione da dota quando si sapeva si avevano dei rumor su dota 2 io l'ho giocato lo trovavo un titolo interessante però a me non ha entusiasmato diciamo il gameplay era troppo frenetico rispetto al primo dota gli eroi sono stati importati per metà poi dopo sono stati creati dall'S2 mi sembra che il gioco sia sviluppato dall'S2 una compagnia l'S2K non mi ricordo più bene il nome si comunque invece per quanto riguarda League of Legends che diciamo è il primo secondo me gioco davvero di successo che ha tentato di emulare dota League of Legends addirittura ho saputo che in Corea è riuscito a superare Starcraft per quanto riguarda la quantità di tornei e di premi in prezzo cioè Starcraft è stato sport nazionale della Corea del Sud per molto tempo e League of Legends l'ha addirittura superato League of Legends come è stato creato perché so che all'interno dei creatori di League of Legends c'è anche uno dei creatori di dota sì esatto praticamente come è nato League of Legends diciamo che c'è stata una sorta di disputa tra Guinso e Ice Frog Ice Frog ha continuato a sviluppare dota mentre Guinso è stato assunto dal Riot appunto e ha cominciato a sviluppare questo League of Legends League of Legends si può definire una versione semplificata di dota un po' più semplice nel bene e nel male nel bene e nel male ovviamente e l'immediatezza ha fatto sì che diventasse appunto così popolare sia in in tutto il mondo infatti si contano 30 milioni di account giocanti praticamente oltre al fatto di essere gratuito sì perché quello è una grossa cosa è anche il fatto di essere gratuito e aiuta sicuramente sì comunque Lego ora diamo un attimino la parola a te io so che te giochi da entrambi i giochi visto che ti conosco e ti vedo spesso ci giochi sempre di più cos'è che hanno di speciale questo genere di giochi cioè cos'è che ti piace così tanto di questo nuovo genere ma probabilmente perché creano probabilmente assuefazione sono delle mezze droghe purtroppo uno inizia a giocarsi direi che ci piacciono è una parola grossa no non è vero siamo costretti a continuare a giocare non si sa il perché ma noi noi ci vogliamo continuare a giocare finiamo una partita poi ancora ne voglio ancora diciamo che penso che innanzitutto sia un genere un po' particolare molti di noi anche qui erano un po' scettici nell'iniziarla a giocarci io prima di tutto non avevo mai provato un gioco di questo genere e dopo le prime partite dopo le prime esperienze dopo le prime sucate soprattutto uno cerca di continuare a giocare soprattutto magari un po' per migliorare e poi quando ci si fa la mano per motivo per l'altro non so non ci si riesce un po' staccarsi perché comunque ci si diverte soprattutto sono dei giochi in cui la collaborazione nel team e nella squadra è fondamentale questo genere di giochi a mio avviso sono i migliori quelli in cui tu puoi stare in TS con degli amici e coordinarti coordinare delle azioni possono mettere in risalto l'aspetto cooperativo di un videogioco soprattutto quando realmente influenza il gioco perché la cosa bella di quei giochi è proprio il gioco di squadra che si viene a creare tra i player senza nulla da togliere i vari code battlefield ma è proprio un altro livello di gioco di squadra bisogna essere coordinati bisogna ascoltare una persona che dà gli ordini insomma è proprio bello l'ambiente che si crea nel gioco insomma difficilmente se qualcuno fa male la squadra va bene esatto è una cosa che c'è bisogno del supporto di tutti già effettivamente una delle cose che all'inizio appena inizi a giocare io parlo da giocatore di Call of Duty che ha iniziato a giocare a Dota 2 addirittura io ho saltato League of Legends sono passato direttamente a Dota 2 che almeno da quanto si dice è ancora più traumatico ecco la transizione diciamo che io ho abituato a cosa io vedo un nemico io lo carico lo ammazzo lo attacco funziona così su Call of Duty invece su Dota 2 è una cosa completamente diversa infatti le mie prime partite su cavo proprio a dei livelli altissimi non capivo non capivo le meccaniche ma pian pianino una volta che si impara come funziona questo genere di giochi che si imparicano che si imparicano mi impappino che si imparano le meccaniche di base non lo so ci si accorge che questi giochi sotto magari ad una grafica abbastanza semplicistica come può essere appunto quella di League of Legends o di Dota hanno una profondità di gameplay di gioco di squadra davvero bellissima e secondo me l'unica pecca è che a volte quando trovi magari una persona poco brava in squadra e perdi per colpa sua rosichi perché pensi io comunque per quanto bravo non avrei potuto fare nulla è un po' è un po' il motivo per cui ho smesso di giocare tipo Left 4 Dead multiplayer perché basta una persona che non sa giocare una persona che si fa ammazzare e tutta la squadra perde eh sì questa è un po' la pecca di questi giochi infatti il Rosic che scaturisce nell'avere un compagno di squadra non sulle capacità nostre è molto perché veramente una persona da sola può rovinare una partita di 50 minuti perché non è in grado di capire una certa cosa già per poi appunto non parlare del fatto che le partite durano così tanto esatto diciamo che anche la durata va a influenzare molto questo discorso perché per esempio una partita di altri giochi più rapidi anche se cioè può essere che l'influsso del team ci può stare magari due o tre persone giocano male ci fanno perdere la partita però cosa abbiamo perso perdendo la partita abbiamo perso 6 minuti 10 minuti o parlando di Battlefield quanto dureranno una partita lunga mezz'ora o giù di lì su questo genere di giochi si parla sempre di partite che variano tra i 20 minuti 40 minuti ho anche un'ora io stamattina mi è capitata una partita lunghissima non finiva mai cioè se avessi perso sarebbe stato quant'è che era durata 80 minuti 80 minuti oh Gesù sì ci sono una roba pesante sì ovviamente non succede spesso questa cosa anzi spesso dipende anche dall'incapacità dei giocatori a un certo punto di saper concludere la cosa perché è assurdo che a 80 minuti ancora non sia stato raggiunto l'obiettivo finale però insomma diciamo che è un gioco tendenzialmente più lungo e quindi più impegnativo anche perché non si può dire a metà partita smetto di giocare perché rischi che la gente ovviamente sbrocchi e ti cerchi di bannarti cerchi di segnalarti o robe varie perché una persona in meno come abbiamo detto influenza tutta la partita dal momento in cui una persona lascia il game la partita non dico che è persa ma ci sono davvero ottime probabilità che sia già persa a prescindere perché comunque in tutti i combattimenti sarà 4 contro 5 e sarà dura appunto riuscire a vincerli anche la concentrazione che va mantenuta per così lungo tempo richiede molta sì poi capita molte volte che magari succede qualcosa ti demoralizzi perché perdi per un errore stupido e poi giochi male per la restante mezz'ora e a quel punto non si può più far niente comunque speriamo di avervi messo un po' di curiosità su questi due titoli quelli in particolare di cui parliamo che sono League of Legends e Dota 2 perché sono quelli a cui giochiamo noi appunto quindi parliamo di questi ecco e per il resto volevo chiedere quindi a Lego che magari è una cosa che sembrerà banale ma magari interessa anche a chi ci sta ascoltando e non ha mai provato questi giochi Lego come si fa a giocare a League of Legends? è free to play? come si scarica dal sito? sì potrete trovare tranquillamente League of Legends probabilmente vi metteremo anche un link nella descrizione direttamente dal sito accedendo al sito sarà sufficiente registrarsi e potrete scaricare il client e quindi poi il videogioco e dopo di ciò l'unica cosa che vi rimarrà da fare sarà quella di iniziare a giocare nulla di più mentre per quanto riguarda Dota il discorso è un po' più complesso visto che attualmente in una fase beta dovete trovare una key che non sono facilissime da reperire per poter accedere a questa beta di iniziare a giocare certo è facile da reperire se avete intenzione di pagare perché adesso solamente con una decina di dollari 11 dollari si riesce a portare a casa una key è facile da reperire la beta ma in realtà ci sono persone che riescono a reperirle con più facilità di altre evidentemente e poi si mettono a svenderle su forum scambiare molti scambiano anche per giochi magari tu gli passi un gioco steam loro ti danno l'accesso alla beta esatto è quello che ho fatto io io e i miei amici ad esempio avevamo voglia anche se sarà free to play già si sa che Dota 2 sarà un gioco free to play quindi voi dite tu paghi per giocare prima ad un gioco che sarà gratuito che è addirittura ancora in beta no lo faccio perché comunque ne è valsa la pena più o meno sono riuscito a trovare delle key per un valore di 10 euro ecco come funziona ci sono alcuni forum che vabbè non è che mettiamo link comunque basta semplicemente trovare la persona che ha un invito e scambiarla per magari un altro gioco su steam perché steam offre anche questa possibilità di scambiare giochi per giochi giochi per oggetti dentro i giochi cosa del genere molto simpatica quella che potete fare è fare uno scambio perché non so quanto sinceramente sia legale no esatto esatto perché mi raccomando non fidatevi di chi dice vi darò la case voi mi esatto mi mandate 10 euro no farlo con persone affidabili esatto comunque diciamo che a grandi linee questo come abbiamo detto sarà un gioco free to play però adesso ne vale la pena essere in beta più che altro perché pur essendo un gioco appunto in beta è davvero molto completo è già mancano mancano i personaggi mancano i champion però a livello di game è molto completo sì beh comunque di champion ce ne sono già cos'è una sessantina settantina scine ah addirittura 75 se non sbaglio diciamo che siamo a tre quarti a tre quarti dei champion totali che ci vorrebbero comunque inizio a giocare adesso se no c'è anche un gran vantaggio perché nel momento in cui uscirà il gioco più o meno tutti avrà già chi ha iniziato a giocare avrà un'idea di come funzionare e tutto e non si troverà lì spesato nelle prime partite a succare malamente ma potrà divertirsi la valve ha in progetto di mettere dei vari tutorial molto studiati bene per introdurre al meglio i nuovi giocatori il vantaggio che si ha questo è già una buona idea secondo me la beta che è adesso è come avere in mano il gioco completo cioè ok mancano gli eroi ma sostanzialmente per 10 dollari vi potete cioè ora mancano gli eroi mancano i servizi magari esatto non è che vi sto dicendo andate a comprare le beta correte però con 10 dollari secondo me vi trovate fra le mani un gioco che è praticamente completo anche perché tra quant'è che uscirà questo gioco? quando è che uscirà la data 2? la data ancora non si sa la valve ha detto di per certo che uscirà dopo non si sa quanto dopo il torneo grossissimo che si terrà Seattle il secondo international si il secondo international è un torneo da un milione di dollari si svolgerà dal 31 agosto al 2 settembre a Seattle e la valve ha rilasciato che fino ad allora non ci saranno date certe dopo forse cominciano a buttare giù qualche data ma ancora è presto per dirlo secondo me secondo il mio modesto parere fino al 2013 nisba quindi parlaci un attimino dell'international che cosa è questo international championship di dota perché già ce n'è stato uno vogliono fare la seconda edizione è stato un modo per lanciare il gioco? allora l'anno scorso intorno ad agosto la valve stava lavorando su dota e ha annunciato questo torneo gigantesco cos'è questo international international praticamente raduna le 16 squadre che sono ritenute dalla valve le più costanti le più performanti quelle con risultati maggiori le raduna e le fa scontrare tra di loro in un torneo eliminazione con winner bracket e loser bracket e la vincente si portava a casa un milione di dollari un milione di dollari in 5 in un solo torneo in un gioco che non è ancora uscito e questo è il bello infatti però nonostante non sia ancora uscito io vedo sempre che comunque ogni volta che l'ho godota ci sono sempre più di 30.000 persone online quindi è una beta ma effettivamente è un po' già come un gioco che sia quasi uscito perché ci sono un sacco di giocatori e chissà quanti saranno quando diventerà free to play tuttavia League of Legends ha un'utenza sicuramente molto molto maggiore comunque direi che non so quanto siamo possiamo già dare la pubblicità possiamo dare la pubblicità direi poi nella prossima parte cercheremo di farvi avere un po' un confronto tra Dota e LOL e parleremo un po' di questo diciamo adesso io vi lascerei con la pubblicità e direi che questa volta la valletta la fa Albi io? no la facciamo fare a Lego che è qua in versione ospite dai la sfruttiamo fai la valletta oh ciao tutti i ragazzi vi do come devo dire il là la pubblicità vabbè non sono pratico queste cose ok ma chi è che l'assunta questa sei licenziata a Lego la Steffina vabbè allora pubblicità 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 ed ora è il momento di buttarsi nella mischia abbandonare quel lavo che scendere sul campo di battaglia stringendo una poderosa metagliatrice leggera e strisciando al fianco dei nostri compagni sapete il perché? e perché tecnicamente mi hanno ciulato l'avocchi quindi non ci sono potuto sponare sopra e probabilmente adesso è sopra la mia testa che si diverte a svolazzare io me la devo fare a piedi 800 km di corsa beh mi faccio un po' di fiace un po' mi faccio il fisico però che tragedia no vabbè comunque questo è un piccolo dettaglio comunque salva tutti e dopo questa piccola pausa pubblicitaria eccoci Lego non è che perché ti abbiamo invitato adesso sei il capo qua cioè qua qua dominiamo io a lato oh abbassa abbassa il trago è stato qui perché ci ha chiesto più volte ha detto fatemi venire poi non sappia neanche che dovreste fare che mi raccimola un po' gli iscritti guarda c'è un po' 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 che continua a parlare di sui francesi sto sovrapponendomi al povero Lego ok comunque bentornati dopo la pubblicità e in questa seconda parte nella prima parte abbiamo parlato un po' di League of Legends e di Dota Dota 2 in particolare questa nuova beta di questo gioco che sta per uscire ma già ha un aspetto addirittura un aspetto competitivo molto sviluppato e adesso confronteremo un attimino questi due giochi quindi magari sarà una parte molto più agonibile da chi ne conosce almeno uno dei due dunque qua tra l'altro abbiamo diverse fazioni anche perché c'è chi preferisce Loil che preferisce Dota che ha giocato entrambi chi come me ad esempio non ha giocato a Loil e ci ha giocato un paio di partite ma non mi era piaciuto molto e adesso vi dico perché a parte perché morivo sempre è davvero questo ma a me non lo so non mi piace il fatto che non ci siano tutti i champion eroi come li vogliamo chiamare disponibili fin da subito cioè il fatto di doverne sbloccare il fatto di averne soltanto alcuni disponibili non è una cosa che dà fastidio anche a voi cioè su Dota 2 gli eroi sono tutti disponibili fin dall'inizio invece su Loil te li devi sbloccare giocando o pagando sinceramente è una delle cose scusa vado io o vai tu vada vada è una delle cose che odio di più in League of Legends perché non ti dà magari a te piace un campione lo vedi è lì bello lo usi per una settimana poi te lo cambiano e tu non hai abbastanza soldi per comprarlo l'hai imparato te lo sei goduto ti si sei affezionato e loro te lo tolgono come se fosse come quando ti lascia la ragazza più o meno esatto ti rimane vuoto ti fatti vomitare non riesco a segnare che schifo di nerd ti senti vuoto invece su Dota no su Dota se li hai tutti sono lì che ti guardano scegli me scegli me tu ne scegli uno no per quello c'è però da dire che magari è un trauma un po' all'inizio però io vedo che comunque molti dei miei amici in real comunque già dopo dopo che giochi per un paio di settimane c'hai perlomeno tutti i champion almeno uno per ruolo comunque non non è questo gran problema però è proprio una cosa che non lo so mi fa male all'anno bando alle ciance bando alle ciance lego dicci un po' io ti chiedo questo una cosa positiva e una negativa di lol e una cosa positiva e una negativa di Dota secondo te già che giochi a tutte e due una cosa positiva di lol la cosa positiva di lol direi che tra virgolette è un po' più immediato e più facile da apprendere perché questo posso è vero che c'erano i giochellini sottofondo per massimo adesso mi metto poi sul balcone a sparare no poveri i giochellini poveri i giochellini vabbè li accoglierò nella mia casa e li li nutrirò ecco o ti nutrirai di loro vabbè piccoli dettagli insomma sono sempre deliziosi sempre di nutrire quindi no direi che lol a mio viso risulta un po' più immediato è facile da imparare e forse può essere il gradino giusto per avventurarsi in questi rts lato negativo di lol è il fatto forse che ogni volta che esce un nuovo champion sono sempre piuttosto bagatti nel senso che bagatti perché purtroppo non sono molto bilanciati i champion su lol purtroppo c'è questa tendenza di realizzare spesso dei champion OP che quindi risultano essere più forti rispetto ad altri e si deve attendere davvero tanto prima che ci sia una patch o comunque un fix che vada a bilanciare i vari champion questo penso che sia il difetto maggiore di lol prima che ti avventuri a parlare di data pensi che magari questa cosa del fare i nuovi champions sempre magari più forti di quelli precedenti e magari correggerli soltanto dopo un bel po' possa essere anche perché il fatto che il gioco è free to play tu se vuoi diciamo che pagando che io sappia non puoi a parte le skin delle quali parleremo dopo pagando comunque se league of legend non è un free to play pay to win perché comunque pagando puoi ottenere le cose prima ma non puoi ottenere cose in più del giocatore che non spende un centesimo o sbaglio no? si diciamo che su lol parte le skin si su lol l'unica cosa che puoi comprare c'è un champion le skin e magari basta con i soldi questo ma non vanno a influenzare le tue abilità diciamo che puoi ottenere una cosa prima ma comunque quella cosa la puoi ottenere comunque anche giocando onestamente far male come un cinese ecco ma dice che magari potrebbero fare questi champion così magari un po' più forti per magari tentare la gente a comprarli a spendere un po' di soldi anche perché alla fine è un gioco free to play ma vive di questo vive dei delle microtransazioni può essere per quello ecco comunque dicevi invece un lato negativo e uno positivo di dota quello positivo dovrei pensare effettivamente no ma direi forse la varietà e l'accessibilità di tutti i champion fin dall'inizio e anche comunque direi che è piuttosto bilanciato nel momento in cui si crea un team non si trova un team che rispetto al tuo ti asfalti in tre secondi fortunatamente sono tutti i champion che se piccati e quindi scelti in maniera adeguata sono a mio avviso abbastanza equilibrati ecco il lato negativo di dota è molto interessante da trovare adesso ci penserò no no ma state tranquilli che c'è 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 forse 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 una bella domanda questa beh un lato negativo di dota ora come ora magari è l'accessibilità non tutti ci possono giocare ma quello è relativo perché adesso se ci pensiamo appunto è una beta e uscirà poi il gioco no 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 ma io intendevo accessibilità nel senso che che magari proprio per il fatto che è un pochino più difficile e ora come ora perché alla fine è tutta questione di allenamento come io la prima volta che sono andato in moto quello che riuscivo a fare è andare dritto contro il primo muro e spegnere la moto dopo ho imparato come si guidava secondo me è più che altro che richiede più esperienza richiede più ti devi applicare maggiormente magari rispetto ad altri giochi però allo stesso livello di lol se ci giochi molto e se ci fai pratica inizia a conoscere tutti i pg risulta facile allo stesso modo secondo me capito ok invece adesso chiediamo Shinigami che invece è una persona di parte perché lui ama dota e non gli piace affatto lol c'è almeno una cosa di lol che ti piace che non c'è su dota? non necessariamente che non c'è su dota sì no dico qualcosa qualcosa che che vorresti tu giochi a dota però giochi anche a lol c'è qualcosa che su nole è meglio? posso dire lo shop come ho organizzato lo shop lo trovo molto più intuitivo e fruibile per un nuovo giocatore lo shop di dota è un po' più diciamo incasinato perché non lo sapessi penso stia parlando dello shop in game quello degli oggetti per il codice quello degli oggetti per le partite ovviamente capito è proprio abbastanza confusionale quello di dota mentre quello di rio of legend è più ordinato per i nuovi giocatori sì e invece per un giocatore competitivo come te ecco tu cosa ne pensi del fatto che su dota quando una partita magari a parte che una partita magari non è mai persa tranne in alcune situazioni perché comunque ho visto davvero dei comeback delle partite che sembravano disperate perse alla fine che sono state vinte dalla squadra che sta succando però su lol c'è l'opzione di sorrendare la partita cioè di arrendersi tramite un voto nella squadra te di questo cosa ne pensi? è una cosa positiva che su lol ci si possa arrendere o no? perché ad esempio su dota a volte capita magari una partita che inizia a 10-0 al quinto minuto davvero le chance di vincere sono pochissime e comunque devi sorbirti mezz'ora di sucate no? non è una cosa brutta allora bisogna vedere i casi secondo me il concede su lol ti spinge diciamo vedi che la partita sta andando male e tu ti senti spinto dico tanto 20 minuti concediamo chi se ne frega ne facciamo un altro non ti senti spinto a dire cazzo scusate la parola mi metto sotto e vediamo se riusciamo a ribaltare la partita il concede secondo me dà questo impatto sui giocatori dice che è una via di una via di fuga più semplice una via di fuga mentre su Dota per esempio magari stai perdendo hai perso un Rax in 20 minuti ti stanno sfondando magari riesci a ucciderne 5 per puro caso hai la base a 20 HP riesci a ucciderne 5 poi tu e la tua squadra vi mettete sotto come le formichine fate un piccolo passo alla volta e magari riuscite a vincere lì ti senti il padrone del mondo proprio perché sei stato solo uno del baratro e riesci a vincere la partita però secondo me scusa vai vai secondo me tra le volte comunque il surrendere è anche utile perché purtroppo anche su Dota che non puoi surrendare ci sono dei momenti in cui la squadra avversaria tergiversa potrebbe chiudere la partita invece non si sa perché ti inizi a stuprare in base fa altro e tu stai lì 15 minuti a far cosa a vederti questi che ti stanno aumenta la tua agonia magari si ammazza i creep da sola secondo me il surrendere sarebbe insomma la soluzione migliore perché diventa frustrante continuare a stare lì a giocare ma il fatto che quello lì dipende dai player perché si trovi dei quello è indice di cattive maniere insomma le chiamiamo bad manner in Dota ma chi è che non lo farebbe alla fine poi ma vuol dire che non rispetti l'avversario se fai una cosa del genere perché purtroppo però capire se eh lo so che capita la comunità di Dota non lo so voi i giocatori di Dota siete dei maledetti ma sai ma sono dei maledetti lo so invece ditemi un attimo questa la chiedo da lato perché so che lui è molto più su League of Legends di noi ecco ma la comunità di League of Legends com'è? è amichevole o meno? perché io so che su League of Legends c'è una specie di tribunale è proprio una cosa giudicata dalla community stessa per magari bannare le persone che si comportano male ok com'è che funziona questa cosa? perché mi sembra interessante allora guarda il tribunal diciamo che funziona in questo modo ci sono delle situazioni in cui i player possono venire reportati tramite altri giocatori durante una partita per esempio se un giocatore lascia la partita tu puoi segnalarlo a fine partita dire questo giocatore è un lever cioè uno che lascia oppure se lascia il personaggio a FK che vuol dire lontano dalla tastiera comunque sta lì non fa niente eccetera puoi segnalarlo puoi segnalare un sacco di cose tra cui molte cose sono un po' vaghe per esempio la segnalazione per verbal abuse il verbal abuse è uno che in teoria parla tanto ti insulta robe varie essendo una cosa vaga che cosa hanno pensato quelli di Riot secondo me è davvero un'ottima pensata hanno messo a disposizione per tutte le situazioni vaghe di ban o not ban la possibilità ai giocatori stessi di andare a vedere i dettagli della partita compreso di tutto il chat log i dati della partita e le partite diciamo in cui questo giocatore è stato segnalato in generale e poi sta all'utente stesso dire sì guardando i dati della partita il chat log eccetera secondo me è vero che questo qua insultava tutti per esempio guardavo stamattina una partita avevo 5 minuti ho detto mi guardo una partita sul tribunal c'era uno che ha cominciato a insultare pesantemente gli avversari tutto il tempo anche i suoi compagni di squadra aveva qualcosa come 6 report su 9 giocatori totali era abbastanza semplice da capire spesso però non è così immediato magari devi guardare bene a volte un giocatore viene reportato perché è molto bravo e gli altri rosicano e lo reportano che cos'è la cosa interessante di questo è che se la tua votazione rispecchia il risultato finale insomma se tu dici questo giocatore è colpevole di quello che ha fatto quindi va bannato secondo me e poi alla fine di tutto quando vengono raccolti abbastanza voti questa persona viene realmente bannata tu guadagni dei punti da spendere all'interno del gioco e questo simula le persone comunque sia a partecipare a questa cosa sia a partecipare in modo sensato insomma non andare lì e a trollare la gente oltretutto dopo un tot di volte che tu rispondi il contrario di quello che effettivamente viene deciso non viene più considerato insomma si perché sei le trolli che sei sempre quello che va contro delle penalizzazioni capito insomma è un'idea abbastanza interessante sarebbe bello che introducissero qualcosa del genere anche su dota per esempio quindi è una community che si autoregola praticamente no? una cosa così praticamente si in pratica sospetto che sia più un metodo per risparmiare sull'autoregolamento però è una buona idea comunque ci sta che che per certi versi la community si autoregoli bisogna anche vedere quanta gente realmente partecipa a questa cosa e quanto lo faccia in modo sensato e non vada lì e clicchi a caso le cose io per dire quando guardo una segnalazione me la leggo bene prima di dire ah questo qui va bannato perché mi dispiace pensare a una persona magari non ha fatto niente di male capito fine sì volevo dire che anche sull'autore c'è un sistema simile non è così articolato bene però c'è un sistema di segnalazione o raccomandamento diciamo che ogni giocatore può dopo una partita può segnalare se un giocatore si è comportato in maniera scorretta oppure evidenziare il comportamento benevolo di un compagno di squadra raccomandandolo e i giocatori con più raccomandazioni al momento non dicevano niente però in futuro non so quali sono i progetti della Valve sì diciamo che non c'è soltanto il reportare ma anche alla fine del gioco dire questo giocatore è stato particolarmente amichevole oppure questo giocatore le voci sono amichevole forgiving cioè diciamo come si dice diciamo che ti ha perdonato magari hai fatto qualche errore e lui e lui ha detto ma sì tranquillo anche io una volta non ero bravo poi c'è teaching quindi uno che magari ti ha insegnato qualcosa ti ha detto oh ti consiglio fatti questo oggetto qua e ti dici ah cazzo bel consiglio ti raccomando e poi l'ultimo qual è? è leadership leadership un giocatore si è dimostrato un capitano vero che ha portato la sua squadra sì diciamo coordinare la propria squadra ecco sì ecco e dunque poi invece una cosa Shini questo dimmelo te una cosa che secondo te rende Dota migliore di LoL cioè un qualcosa di Dota che non c'è su LoL o che è migliore su Dota qual è il motivo principale per cui ti piace Dota rispetto a LoL diciamo la cosa più fondamentale sì la cosa più fondamentale secondo me le tipi scroll le tipi scroll ecco però spiegarlo un attimino bene anche a chi non conosce bene i giochi allora funziona così praticamente è un oggetto che ti permette di teletrasportarti in tutte le parti della mappa dove hai una struttura alleata e dopo un delay di 3 secondi questo oggetto cosa fa cosa crea crea una situazione di attenzione da parte della squadra perché bisogna sempre essere attenti magari i due nemici stanno tentando di uccidere un nostro alleato noi possiamo usare il nostro tipi scroll e in 3 secondi ci troviamo a dargli una manforte questo cosa crea crea una dinamicità del gioco che a me piace tantissimo su lol ad esempio questa cosa non c'è c'è solo una spell che si chiama teleport ha un cooldown enorme di 300 secondi mi sembra 5 minuti e quindi lo fai una volta però non è che lo puoi fare tutte le volte magari il tuo amico sopra sta venendo gancato a ripetizione e tu lo puoi aiutare una volta sola su dota lo puoi fare ogni minuto e insomma lo trovo molto più dinamica come cosa ok capito bene quindi andiamo un attimino ti posso un attimo interrompiti vorrei chiedere cosa lego parlando prima abbiamo detto del fatto che c'è bisogno di reportare eccetera perché c'è bisogno di reportare come mai c'è questo clima secondo te in questo genere di giochi tu come lo respiri il clima di questo genere di giochi diciamo che ci sono partite partite ci sono partite dove si riesce a giocare in simpatia ci si diverte ma purtroppo spesso capita di imbattersi in partite dove si incontrano delle persone piuttosto irascibili perché perché più o meno noi diciamo siamo più o meno dei discret giocatori ce la caviamo purtroppo nel momento in cui magari in una partita si commette un errore e si muore magari si può morire una o due volte perché purtroppo l'altro giocatore è magari più forti di noi si inizia a creare all'interno della squadra è un clima piuttosto teso e generalmente quasi sempre c'è sempre un individuo purtroppo che inizia a dirti smettila di fidare ma va a giocare a qualcos'altro sono incompetente cioè inizia a insultarti e purtroppo questo clima fa tutt'altro che aiutarti a cercare di impegnarti e migliorare ti senti piuttosto frustrato ti senti un po' una merda perché non riesci a fare nulla purtroppo è anche fastidioso giocare uno cerca di giocare per divertirsi tutto cerca di disputare una partita così per rilassarsi e poi in realtà si trova in una partita dove riceve solamente insulti perché purtroppo magari per forza di cose magari l'altro giocatore è anche più forte tutta volta si deve anche riconoscere questo e si inizia a giocare male e riceve questi insulti non ti aiutano tutt'altro e per questo motivo spesso si tende a fine partita magari a segnalare alcuni giocatori per questo verbal abuse o comunque questa questa loro intenzione nel cercarti insomma ti stuprano verbalmente in poche parole diciamo che il tribunal è interessante ma in realtà poi c'è talmente tanta gente che si comporta in questo modo che purtroppo poi il risultato è sempre così tra l'altro una cosa divertente di questi discorsi qua che io guardavo appunto stamattina delle partite di tribunal e tu vedi nel chat log contemporaneamente quello che dicono una squadra e quello che dice l'altra e c'erano momenti in cui entrambe le squadre si stavano insultando internamente a vicenda e io non riuscivo neanche a capire chi è dei due che stesse vincendo perché si insultavano in un modo che sembra che stavano succando tutte e due e io cercavo di capire quello secondo me spesso la gente comincia a sbroccare anche un po' eccessivamente cioè per dire anch'io magari i rosi che tutto il resto però davvero raramente magari vado a scriverlo in chat no? anche perché mi dà fastidio e anche perché so che di solito quando comincio a dire a qualcuno che sta giocando male poi quello o comincia a giocare peggio apposta o comincia a scrivere in chat mentre è in un cespuglio e muore perché sta scrivendo in chat cioè diciamo che tendo a non avere questa abitudine qua però avete capito secondo me secondo me ci sono due livelli tra virgolette della community magari il livello iniziale in cui ci sono tanti giocatori che fanno proprio gli errori basilari quando non conosci il gioco allora lì sono insulti è un casino così fino a quando non impari eppure io me ne sono presi e ancora me ne prendo gli insulti però quando arrivi al livello in cui sai giocare e non fai più gli errori basilari magari sbagli non giochi bene però diciamo che a un certo punto la community si evolve secondo me con l'aumentare delle partite e i giocatori un po' più esperti diventano anche più più comprensivi cioè io adesso che gioco e che ho una sessantina di vittorie una settantina di vittorie mi pare su spagna una cosa del genere noto che incontro persone che ok magari faccio gli errori me lo fanno notare ma non mi aggradiscono verbalmente quindi forse è anche un po' all'inizio che è così secondo me più a pieno è una cosa almeno su Dota 2 io ho notato che si evolve bene e c'è un clima molto più di fair play anche noto quando il giocatore si disconnette quasi sempre se si mette in pausa il gioco magari aspetta che si riconnetta ecco magari capita le volte che trovi lo stronzo nella squadra avversaria che vuole vincere 4 contro 5 e toglie la pausa però sono casi più rari secondo me ecco comunque leggo cosa stavi dicendo scusami no comunque volevo anche dire aggiungere una piccola cosa che la cosa più divertente è che spesso che la gente che ti inizia a insultare è anche la gente che sta iniziando a giocare male spesso capita che magari una persona prova a fare un gank e muore perché è scarso perché non sa giocare al che ti addosserà tutte le colpe perché è colpa tua sei morto inizierà a rosicare contro di te ci sono veramente spesso delle situazioni abbastanza particolari su lol paradossali ne sappia qualcosa spesso troviamo della gente veramente molto particolare in queste parti secondo me questo qui è uno degli aspetti un po' bui di questi mob è francese ragazzi dovete capirlo si chiama Shinigami non riesce a dire community la community di solito tende ad essere molto aggressiva rispetto ai nuovi player si insultano ci insulti volano in chat perché infatti ogni volta che sono insulti ogni volta che sono insulti io scrivo sempre molto pacatamente scrivo I guess you were born a pro immagino che tu sei nato già pro hai già iniziato la tua prima partita eri già pro perché si insulti in questo modo tutti hanno iniziato questi giochi è normale diciamo che dovrebbe stare al matchmaking cioè il sistema che mette i giocatori assieme nelle partite cercare di mettere giocatori dello stesso livello di skill tutti assieme soltanto che purtroppo quando si gioca magari io mi faccio l'account nuovo su lol gioco con elato che già c'è un sacco di vittorie allora il matchmaking impazzisce e non può fare a meno di metterci contro dei giocatori forti che alla fine finirà male comunque diciamo che io adesso vorrei parlare di un altro aspetto di questi giochi che generalmente sia lol che dota saranno dota sarà lol già è free to play però vivono di microtransazioni di questa cosa che si vede molto nei free to play ecco e in particolare la microtransazione preferita perché le altre sono cose magari un po' secondarie sono soprattutto le skin le skin alternative dei personaggi una cosa estetica un po' come i cappellini di team fortress ecco se va bene il paragone ecco ora te cosa ne pensi di queste cose alato perché so che te sei un brutto shoppone di skin allora diciamo no 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 i skin non sono uno shoppere ce ne ho un paio ma bugia dai due di skin soltanto quella di fiddlestick perché è troppo bella una cosa che quando quando esci fuori scusate ho deciso di fare andare la scopa elettrica la scopa elettrica quella di Ambo dell'altra volta la solita scopa elettrica di Ambo comunque dicevo una cosa diciamo che la skin di fiddlestick è qualcosa di spettacolare perché c'è le trombette al posto delle cose normali quella era troppo bella per non poterci spendere di soli sopra no diciamo che a me piace appunto questo gioco ci gioco molto quindi pur essendo gratuito diciamo da un certo punto di vista non mi dispiace spenderci qualche soldo ci sono giochi che mi sono piaciuti molto meno e ho pagato 70 euro ora non vorrei ci dare una casa in particolare c'è un gioco in cui ho speso 70 euro e ci avrò giocato un centesimo di quanto sto giocando adesso a lol quindi diciamo da un certo punto di vista non mi dispiace a me dispiace quando queste cose vanno a influenzare il gameplay per esempio il sospetto che viene a molti che aggiungendo nuovi champion a parte ultimamente che ogni volta che aggiungono un nuovo champion il gioco diventa instabile in maniera inverosimile quindi uno viene da dire ma invece di investire in nuovi champion perché non investite in migliorare sti server che evidentemente hanno dei problemi quelle cose lì purtroppo col fatto che è un free to play e quindi hanno bisogno di guadagnare da certe cose va un po' il problema principale dei free to play che in qualche modo devono sempre trovare un metodo per guadagnarci di più e spesso questo metodo va un po' in conflitto con la bellezza del gioco ecco in questo penso che dota abbia un piccolo edge perché la valve con tutto quello che ci fa soltanto con la pubblicità che avrà su steam penso che possa pensare un po' meno alla monetizzazione di dota e più al fare un bel gioco questo è un po' il vantaggio che ha la valve insomma dipende perché comunque in qualche modo i soldi devono arrivare comunque se non erro si pensa che su dota vengono aggiunte cose come su team photo se si ha cappellini skin per personaggi si 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 anzi io ho visto anzi questo qua tra l'altro l'ho visto poco tempo fa praticamente faranno proprio uno shopping in cui potrei personalizzare cioè prendere proprio oggetti vari per il personaggio cioè non soltanto magari la skin ma anche ho visto avevo visto tipo sven l'eroe un tizio con la spadona gli spallacci così tipo potrei cambiare gli spallacci potrei cambiare il colore dei pantaloni cioè queste cose qua potrei fare sì potrei fare lì la polperizoma in topless e quindi secondo me sarà sarà anche meglio di lol perché probabilmente queste cose ovviamente essendo parziali costeranno molto di meno e potrei personalizzarlo molto di più il personaggio cioè non è che c'è soltanto la skin ma potrei cambiargli l'arma che c'è in mano magari potrei cambiargli la capigliatura anche se diciamo che in un gioco in cui i personaggi sono così piccoli forse sono dettagli che valgono un po' meno su team fortress li vedi i cappelli su dota il cappello lo vedi un attimino di meno e quando muore i zombie sul tuo cadavere è morto beh bisogna vedere anche poi come lo faranno purtroppo ancora non si sa cioè si sanno dei rumor ci sono delle immagini ma io aspetterei a parlare perché non si può mai sapere quando ci sono di mezzo i soldi anche le migliori case poi no no ma c'era anche qualche c'era anche qualche immagine proprio che mostrava però sai meglio sempre essere tranquilli poi bisogna vedere già si diceva che non sarebbe stato free to play e che non ci sarebbe stato nessuna shop e questa cosa è stata smentita poco dopo quindi cioè ci sta che possono avere delle buone idee però state sempre attenti che è pur sempre della gente che vuole fare dei soldi per quanto siano spinti da immagini di idee purissime le corrette sì sì esatto poi in qualche modo loro non vogliono sicuramente solo il fatto che i champion saranno tutti disponibili già rende lo shop ipoteticamente più interessante magari più equo di quanto potrebbe essere quello di lol adesso cioè tra l'altro quello di lol adesso secondo me la pecca maggiore è non tanti champion perché i champion sì ok non ce li è disponibili eccetera però volete te li puoi anche prendere con gli IP basta che farmi tanto secondo me la reale cosa che non mi ha convinto tanto è il fatto delle delle pagine di rune cioè ci sono delle rune che tu puoi utilizzare per modificare strutturalmente il tuo personaggio in partenza cioè insomma nelle statistiche di base a livello 1 queste rune si distribuiscono all'interno di alcune pagine ok quindi ne puoi avere una certa varietà da poter selezionare a inizio partita perché è una cosa che non puoi fare subito hai bisogno di prepararteli per bene prima poi tu inizi un match e hai questo elenco di rune cosa succede? che normalmente ne hai due pagine di rune quindi hai due possibili varietà di statistiche da poter mettere ma sono veramente poche quando cominci a giocare un pochino in modo più avanzato avrai bisogno di almeno non dico mille ma quattro pagine di rune servono tutte e cosa succede? queste pagine di rune non si possono comprare in nessun altro modo che con i Riot Point cioè con i soldi veri ecco la fregatura quella secondo me è l'unica cosa realmente poco fastidiosa? sì poco non capisco perché proprio quella cosa deve essere così una cosa che evidentemente quella sì che va a influenzare il gioco secondo me perché uno che non vuole spenderci soldi non avrà mai la possibilità di scegliere delle rune diverse sarà costretto ad avere due tipi di rune per 50 champion diversi e non ha molto senso secondo me quella è l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso dello shop poi vabbè ci sta che loro cerchino in qualche modo di guadagnarci nel senso poi sta anche a noi nel senso se noi siamo disposti a farlo non è che siano loro alla fine siamo noi scena di arci se proprio bisogna essere capito ora invece io voglio fare una domanda una delle ultime domande perché ci stiamo avviando verso la conclusione Shinigami che forse non gli piacerà la risposta che dovrà darmi ma ora come ora quale dei due giochi è quello con un ambito competitivo quindi tornei league campionati vari più sviluppato perché io avevo sentito che era lol no? o sbaglio? allora strutturalmente secondo me dota si porta dietro la maggior parte dei tornei perché devi considerare che dota dota 2 non nasce con la struttura di tornei di dota 2 ma nasce dalla struttura già precedente che viene da dota 1 e dota 1 di tornei ne faceva capitali in tutte le parti del mondo si parla tornei mondiali tornei continentali nazionali c'erano tornei di tutti i generi su dota 2 adesso correntemente si può tranquillamente affermare che un torneo a settimana è fatto basti pensare che oggi ad esempio io parteciperò con la mia squadra a un torneo organizzato da un sito join dota e speriamo di riuscire ad avanzare un po' e comunque di tornei ce ne sono veramente capitali senza contare il torneo gigantesco che la valve vuole organizzare ogni anno con un panno gli ho un milione di dollari però si secondo me dota alla fetta maggiore poi siccome io non seguo molto non si riesce a capire quindi Shinigami da questo discorso se vuoi vincere che tu preferisci lol giusto devo ammettere che in modo totalmente oggettivo devo ammettere che non conosco la scena di tornei di lol quindi non è che possa essere oggettivo però secondo me dota alla maggiore invece al lato di rego voi li seguite i tornei di lol per caso perché io ho degli amici in real che li seguono non parlan d'altro e cerco di convertirli ma com'è diciamo che se posso dire io ci sono li seguo abbastanza non esageratamente è ovvio che al momento se un gioco è comunque già rilasciato e lo è da un po' oltre che free to play al momento ci sono davvero tanti 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 tornei e probabilmente ce ne sono più di quante ce ne sono di dota 2 adesso però bisogna sempre dire appunto che dota 2 è ancora in beta quindi bisogna poi vedere nel momento in cui andrà ad uscire e la cosa sarà un po' più pari che cosa si deciderà di fare quello che sospetta è che semplicemente si faranno entrambi i tornei ci sarà un botto di tornei di questo tipo e le maggiori squadre avranno sia una squadra di lol che una squadra di dota come già succede come già succede alla fine perché tutte le squadre più forti di dota spesso coincidono con le squadre più forti di lol non so quanto valga il viceversa però diciamo che a grandi linee le multigaming associate sono quasi sempre le solite secondo me non è che si può fare proprio un vero chi ne fa di più semplicemente sono i due giochi che tirano secondo me sono il futuro questi MOBA sono il futuro del videogaming competitivo secondo me più che altro si stanno ritagliando una fetta importante il futuro nel loro settore perché comunque non penso e non vedo che altri giochi continueranno a avere il loro spazio semplicemente stanno crescendo molto rispetto a quello che fosse era un tempo strutturalmente sono molto più adatti a una cosa competitiva rispetto per esempio alle ultime uscite dell'Activision o altro giusto per non nominare quel gioco quale gioco non esiste non lo nomino è ovvio che se fai una cosa strutturalmente più orientata a quello la maggior parte dei progamer andranno lì si sentono anche spesso giocatori che neanche sono realmente giocatori di quello che studiano ci lavorano per diventare giocatori perché ci saranno tanti tornei e sanno che sarà ci sarà un bel po' da starci dietro un business un bel business penso anche che si divertano a giocarci se non lo farebbero in questo periodo infatti ci sono diverse controversie in Cina perché siccome il torneo da un milione è su invito molti giocatori vogliono andare tutti nella stessa squadra perché l'anno scorso è arrivata seconda e quindi si pensa che sarà invitata anche quest'anno allora ci sono molte controversie con i contratti gente che vuole lasciare ma non vuole la squadra non li fa andare via ci sono molti casini in atto al momento nella scena cinese americana e anche europea vogliono formare una squadra di super fortissimi per vincere dei supereroi per battere i navi comunque ora per concludere faccio una domanda a Lego che è il nostro più obiettivo che abbiamo qua penso allora quando Dota Dota 2 non sarà più una beta ma sarà un gioco rilasciato quali sono i tuoi pronostici LOL continuerà ad avere più utenza o Dota gliela ruberà secondo me avranno due utenze più o meno diverse perché alla fine chi si è avvicinato a LOL troverà un po' difficile il cambiamento e non è detto che approcciandosi a Dota lo preferirà perché comunque per quanto siano simili come giochi nel momento in cui ti metti lì con tastieri ma usa la mano si hanno proprio delle sensazioni diverse secondo me comunque continueranno lì alla pari spartendosi un'utenza differente magari anche secondo me a livello d'età non so se si fa un paragone come code e batte fino alla fine io vedo un po' LOL come un code e Dota come un batte insomma comunque entrambi hanno una buona utenza un'utenza diversa sono belli a loro modo ecco non voglio essere perfetto ok allora direi che non voglio non ho un po' giudizio no secondo me invece è la svizzera lo sappiamo lo sappiamo che secondo te è Dota meglio devo dire qualcosa contro Dota secondo me sarà LOL ad avere l'utenza maggiore continuerà ad avere l'utenza maggiore secondo me è più accessibile esatto perlomeno adesso poi è già conosciuto molta gente che dà LOL nel momento in cui uscirà Dota dirà si andiamo a provare Dota inizialmente diranno wow che bella grafica poi prenderanno due o tre asfaltate e diranno no che gioco di merda me ne torno su LOL ma lo dici per esperienza personale? no 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 io non penso che sia un gioco di merda io penso che sia un gioco estremamente più difficile e quindi richiede un impegno molto maggiore e ci può stare se sei un giocatore competitivo se un giocatore seminormale che vuole soltanto giocare così cos'assi può stare ci può giocare a Dota però diventa davvero cioè prima che riesci realmente ad ottenere dei risultati secondo me ci devi lavorare molto di più per carità sicuramente la mia impressione è che poi le soddisfazioni che ne trai siano anche molto maggiori però richiede non dico il doppio dell'impegno diciamo che lo skill cap cioè il massimo di abilità che puoi arrivare è molto più alto su Dota quello non c'è dubbio secondo me anche solo con tutte le caratteristiche diverse va bene direi che con questa possiamo concludere questa puntata dei giocatori della domenica speriamo che vi sia piaciuta come al solito lascio la parola a Dara ciao a tutti ragazzi io vi saluto speriamo che vi sia piaciuto lascio salutare i nostri due bellissimi ospiti che ricordiamo se volete il loro numero di telefono lasciamo qui in sovraimpressione direi che con questo è tutto io vi saluto lascio la parola a loro ciao ciao vabbè io vi ringrazio per questo tempo che ci avete dedicato e quindi vi saluto e alla prossima ciao a tutti ciao grazie ragazzi vi saluto anch'io e spero che vi sentirete un po' più attratti dal mondo dei MOBA ciao ragazzi esatto lasciate un bel mi piace eh? come? no dicevo lasciate un bel mi piace noi lasceremo comunque nella descrizione il link League of Legends se magari vi interessa visto che ora come ora il piace simile free to play magari a qualcuno gli verrà voglia di scaricarselo e sì alla prossima ciao 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 ciao